Da tempo Alfonso, signorini assieme a Pier Silvio Berlusconi hanno intimato i concorrenti di comportarsi in modo più consono per un programma televisivo che entra nelle case degli italiano, ma non è stato ascoltato. Già diversi concorrenti sono stati eliminati. Questa volta però a finire nel mirino della produzione Edoardo Tavassi, che ha avuto una discussione con Nicole in Corvaia. Le telecamere hanno ripreso tutto questa volta nella notte. Edoardo avrebbe litigato fortemente con Nicole, a quale favorendo Oriana, si è messa con contro Tavassi. Edoardo tra le tante cose ha anche detto, sei una povera sfigata, e la rimprovera di essere amica di Oriana a tal punto di favorirla per farle vincere il grande fratello. Edoardo Tavassi si è dimostrato uno stratega e dietro il volto del comico si nasconde un vero e proprio giocatore di scacchi. I telespettatori che hanno visto in diretta il litigio si sono rivoltati contro i social del programma e scritto a grandi lettere di far uscire subito Edoardo Tavassi visto che anche altri hanno perso l'opportunità di continuare proprio per tali atteggiamenti. Alfonso lunedì dovrà prendere provvedimenti altrimenti sarà palese la preferenza della produzione verso alcuni concorrenti. Se ti è piaciuto il video metti mi piace e commenta vogliamo sapere il tuo parere. Canale Fabio Pecce